Benvenuti e buon anno. Spero abbiate trascorso un Natale sereno e abbiate approfittato di questa pausa anche in un anno così particolare. Siamo nel 2021, anno nuovo e nuovo inizio, o quasi. L'Unione Europea deve fare i conti con i problemi dell'anno precedente. Su tutti coronavirus e Brexit. E' chiaro, dopo anni di colloqui e un periodo di transizione, che i rapporti fra Bruxelles e il Regno Unito sono fondamentalmente cambiati. Chiunque può capire che la parità di condizioni è una priorità assoluta per l'Unione Europea per ragioni ovvie e legittime. Chiunque capisce che se prendi la decisione di lasciare un'associazione ed è tuo diritto, ci sono conseguenze.